Terza Domenica di Pasqua, dal Vangelo secondo Luca Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono, col volto triste, uno di loro, di nome Cleopa, li rispose — Solo tu, sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro, che cosa? Li risposero, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi, i sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba, e, non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba, e hanno trovato come avevano detto le donne. Ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore, a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero, resta con noi, perché si fa sera, e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e l'odi dell'oro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconubbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro. Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Il Vangelo di oggi, ambientato nel giorno di Pasqua, racconta l'episodio dei due discepoli di Emmaus. E' una storia che inizia e finisce in cammino. C'è infatti il viaggio di andata dei discepoli che, tristi per l'epilogo della vicenda di Gesù, lasciano Gerusalemme e tornano a casa, a Emmaus, camminando per circa undici chilometri. E' un viaggio che avviene di giorno, con buona parte del tragitto in discesa. E c'è il viaggio di ritorno, altri undici chilometri, ma fatti al calar della notte, con parte del cammino in salita, dopo la fatica del percorso di andata e tutta la giornata. Due viaggi, uno agevole di giorno e l'altro faticoso di notte. Eppure il primo avviene nella tristezza, il secondo nella gioia. Nel primo c'è il Signore, che cammina al loro fianco, ma non lo riconoscono. Nel secondo non lo vedono più, ma lo sentono vicino. Nel primo sono sconfortati e senza speranza. Nel secondo corrono a portare agli altri la bella notizia dell'incontro con Gesù risorto. I due cammini diversi di quei primi discepoli dicono a noi, discepoli di Gesù oggi, che nella vita abbiamo davanti due direzioni opposte. C'è la via di chi, come quei due all'andata, si lascia paralizzare dalle delusioni della vita, e va avanti triste. E c'è la via di chi non mette al primo posto se stesso e i suoi problemi, ma Gesù che ci visita, e i fratelli che attendono la sua visita, cioè i fratelli che attendono che noi ci prendiamo cura di loro. Ecco la svolta, smettere di orbitare attorno al proprio io, alle delusioni del passato, agli ideali non realizzati, a tante cose brutte che sono accadute nella propria vita. Tante volte noi siamo portati a orbitare, lasciare quello e andare avanti guardando alla realtà più grande e vera della vita. Gesù è vivo, Gesù mi ama. Questa è la realtà più grande. E io posso fare qualcosa per gli altri. È una bella realtà, positiva, solare, bella. L'inversione di marcia è questa. Passare dai pensieri sul mio io alla realtà del mio Dio. Passare, con un altro gioco di parole, dai se al si. Dai se al si. Cosa significa? Se fosse stato lui a liberarci, se Dio mi avesse ascoltato, se la mia vita fosse andata come volevo, se avessi questo e quell'altro. In tono di lamentela. Questo se non aiuta. Non è fecondo. Non aiuta noi né gli altri. Ecco i nostri sé, simili a quelli dei due discepoli, i quali passano però al sì. Sì, il Signore è vivo, cammina con noi. Sì, ora, non domani, ci rimettiamo in cammino per annunciarlo. Sì, io posso fare questo perché la gente si è più felice, perché la gente migliori, per aiutare tanta gente. Sì, posso, dal sé al sì, dalla lamentela alla gioia e alla pace, perché, quando noi ci lamentiamo, non siamo nella gioia, siamo in un grigio, quell'area grigia della tristezza. E questo non aiuta neppure, ci fa crescere bene. Dal sé al sì, dalla lamentela alla gioia del servizio. Questo cambio di passo, dall'io a Dio, dai sé al sì, come è accaduto nei discepoli, incontrando Gesù. I due di Emmaus, prima gli aprono il loro cuore, poi lo ascoltano spiegare alle scritture, quindi lo invitano a casa. Sono tre passaggi che possiamo compiere anche noi nelle nostre case. Primo, aprire il cuore a Gesù, affidargli i pesi, le fatiche, le delusioni della vita, affidargli i sé. E poi, secondo passo, ascoltare Gesù, prendere in mano il Vangelo, leggere oggi stesso questo brano, al capitolo ventiquattro del Vangelo di Luca. Terzo, pregare Gesù, con le stesse parole di quei discepoli. Signore, resta con noi. Signore, resta con me. Signore, resta con tutti noi, perché abbiamo bisogno di Te, per trovare la via. E senza di Te c'è la notte. Cari fratelli e sorelle, nella vita siamo sempre in cammino, e diventiamo ciò verso cui andiamo. Scegliamo la via di Dio, non quella dell'Io, la via del sì, non quella del sé. Scopriremo che non c'è imprevisto, non c'è salita, non c'è notte che non si possano affrontare con Gesù. La Madonna, madre del cammino, che accogliendo la parola, ha fatto di tutta la sua vita un sì a Dio, ci indichi la via.